Tra gli strumenti più bistrattati nella piccola agricoltura professionale ci sono gli strumenti di programmazione. Spesso sono molto artificiosi, richiedono molto tempo per essere impostati, sono complessi da gestire, non sono flessibili per cui durante l'anno non si riesce a farli equagliare con quella che è la realtà del lavoro in campo. In realtà noi però abbiamo visto che dotarsi di strumenti che permettano di pianificare e gestire la propria attività imprenditoriale può aiutare molto, soprattutto nel momento in cui si è presi nell'affanno della routine della stagione di coltivazione. Noi abbiamo sempre lavorato con dei fogli di Excel molto complessi e molto strutturati, difficilmente modificabili, per cui appunto se si affrontavano degli imprevisti, poi a quel punto bisognava comunque improvvisare. Stiamo provando ad utilizzare Tend, una piattaforma americana per questo tipo di lavoro e al momento stiamo spostando la nostra programmazione dei fogli di Excel sulla piattaforma di Tend e abbiamo già visto che ha alcuni vantaggi rispetto ai fogli di Excel. Non ha solo esclusivamente vantaggi, ha anche qualche svantaggio ci sono soprattutto delle questioni legate alle personalizzazioni che permette un foglio di Excel. Un foglio di Excel posso calarlo addosso alla mia realtà, proprio cucendoglielo intorno. Tend ha un approccio più visivo, perché probabilmente anche per chi ha le prime armi risulta essere uno strumento molto più facile da utilizzare. Ha un costo, ovviamente, ma questo costo secondo me viene ripagato dall'utilità della programmazione, nel senso così come mi compro una fresa per riuscire a lavorare in una maniera adeguata al terreno, altrettanto posso pensare di accedere a un servizio di pianificazione che mi permetta di lavorare in maniera più semplice. Cercherò di farvi una panoramica veloce su quello che è il sistema di Tend. Considerate che il software autocalcola già in sé tutta una serie di funzioni e variabili. Una delle cose che io ho trovato più interessante era la possibilità di... nei fogli di Excel la struttura era veramente molto rigida e molto quadrata. In Tend io invece posso organizzarmi già visivamente il campo in maniera molto più semplice. Vedete che i miei lotti erano tutti estremamente... sono tutti estremamente squadrati proprio per venire incontro alla programmazione di Excel. Mentre con Tend io posso facilmente impostare un nuovo campo direttamente da Google Map. Per cui io posso decidere che questo è il mio nuovo campo. Lo voglio messo qua così. Seleziono l'orientamento dei bancari. Questo si chiamerà prova. Verrà solo lavorato a mano o con una fresa tipo motocoltivatore. Le prose saranno da 80 cm con i sentieri da 30 cm come standard. E lui automaticamente mi avrà creato l'otto con tutte le mie prose. Vedete che qua io so già di avere 37 prose di cui una da 2 metri piccola. posso salvare e avrò il mio campo già qua segnato che risulterà assieme anche agli altri. Vedete io qua ho già i miei altri in cui posso anche chiedergli di vedere la prossima stagione e che cosa verrà coltivato in quei campi. Vedete noi abbiamo già trasferito una serie di programmazioni. nel nostro caso questo sarà vuoto dopo di che passo alla pianificazione vera e propria. vedete anche qua io ho già inserito molte delle coltivazioni che andremo a fare il prossimo anno. se ne volessimo aggiungere una andiamo a selezionare tend ha già in sé un database di varie cultivar tendenzialmente i nomi sono quelli dei cataloghi americani ma spesso si sono identici o si possono trovare dei riferimenti molto simili. Diciamo che io voglio andare a mettere dei fagioli e diciamo che voglio mettere fagiolini perfetto posso aggiungere potenzialmente posso andare a vedere qua se c'è la varietà per dire i blue lake si trovano anche da noi per cui diciamo che io voglio dei blue lake ok no sono a palo ok i blue lake diciamo che voglio fare tre semine ma a due settimane una dall'altra ne voglio mettere giù 25 metri a semina la spaziatura sarà di 6 cm tra le fila e ne metterò due fila per bancale farò semina diretta li raccolgo freschi voglio iniziare a seminarli qua da noi a marzo fa ancora un po' freddo li metterò giù il 15 di aprile automaticamente lui mi conta che questa varietà ha 66 giorni alla maturazione mi controlla mi calcola già lui quando dovrò raccoglierli e che avrò 21 giorni come finestra per la raccolta a questo punto posso dirgli anche come li andrò a seminare nella fattispecie io userò una heart rate mi dice mi calcola automaticamente anche quanto di quanti semi ho bisogno posso decidere l'unità di raccolta lui mi calcola più o meno che a metro di fila io ne raccoglierò per 2,23 kg diciamo che voglio venderli a 3,50 euro al chilo lui automaticamente mi calcola che da queste semine io dovrei ricavarne 1.171,80 euro creo e li ho qua ok già con lo scalare a questo punto io devo assegnargli solo il lotto in cui andrò a seminarli ok scelgo dove andare a seminarli li voglio mettere nel campo di prova e automaticamente gli dirò dove deve metterli ok diciamo che li metto nel nel bancale numero 1 salvo qua di fianco vedete che mi compaiono tutta una serie di task sono i compiti da fare allora questa è la data di semina questa è la prima data di raccolta questa è l'ultima data di raccolta io qua posso aggiungere dei compiti per cui per dire io so che almeno dieci giorni prima devo preparare i bancali per cui vi dico di prepararmi il bancale dieci giorni prima della semina dopo di che io so che dovrò gestire un diserbo anche allora io mi sono creato dei template ogni coltivazione può avere un suo template io ho creato un template in cui faccio un diserbo ogni 15 giorni in modo da non dover inserire ogni singola casella ok per cui ce l'ho già programmato in modo che direttamente sul cellulare mi arriveranno poi gli allarmi su quando devo fare i lavori tutte queste programmazioni anche i task io posso comunque editarli scusate posso editarli live ossia il 15 non mi convince prendo e sposto tutto ok così come anche i task anche nel caso dei task posso farlo cancello la modifica devo ancora dare gli altri questo mi permette veramente una facilità allora io posso andare a vedere dei lotti che ho già fatto per dire in questo lotto io vedo che ho tutto occupato fino al 16 nello stesso bancale riesco già a piazzargli l'altra coltivazione perché è tutto molto visivo ok riesco a sistemare tutti i pezzi molto velocemente ho diverse altre altri tab per cui qua ho una calendarizzazione dei lavori che devo fare la lista per gli ordini dei semi questo pick and pack è in sviluppo ma prossimamente si potrà anche gestire direttamente gli ordini e fare le offerte ok per cui vendere direttamente online tramite questo c'è un sistema molto questo è molto ben fatto per registrare le spese in modo da avere poi un'idea a fine dell'anno quanto è costato di tutti i tipi anche quello del lavoro tutti i vari report per quella distribuzione delle coltivazioni quanto ci si aspetta di aver guadagnato anche lo spazio occupato per cui uno sa se ha bisogno di lavorare altra parte di campo o se piuttosto deve pensare di coltivare qualcosa perché gli ne avanza un pezzo ok e poi tutte le registrazioni qua possono essere insegnate insegnate tutte le cose che si trovano quanto si è raccolto quanto non si è raccolto queste cose qua una serie di grafici divertenti per i nerd che io però trovo molto divertenti per dire questo è lo spazio occupato del campo io per ora non sono arrivato neanche al 50% con la programmazione sono solo al 36% ok così come quello che è l'andamento economico che io mi aspetto per il prossimo anno ok questo è utile sembra una stupidaggine ma è utile perché ad esempio noi sappiamo quando sono i periodi di magra con cui dobbiamo integrare per cui noi dobbiamo cercare di vendere di più in quel periodo oppure quello è il periodo in cui facilmente possiamo trovarci altro da fare fuori se dobbiamo integrare le entrate abbiamo ovviamente qua sopra quello che sono le entrate che ci aspettiamo per il 2020 e qua una volta che avrò inserito tutte le spese avremo le spese in modo da avere poi un reale bilancio questa era una panoramica veramente molto veloce di quello che è TEND come servizio una delle cose che io trovo più interessanti appunto è l'integrazione anche con con gli smartphone per cui ti permette di avere tutta una serie di allarmi direttamente sul telefono ma non solo i dati sul computer possono essere aggiornati direttamente dal telefono perché quando sono in campo se faccio una raccolta nel momento in cui la vado a pesare posso automaticamente segnare sul programma quanto realmente ho raccolto rispetto alle stime e per cui avere già un'idea più precisa dei dati e di come sta andando così come nel momento in cui avranno anche ampliato la funzione quella per gli ordini io automaticamente come raccolgo in campo sto già spedendo ai clienti gli ordini su che cosa è stato raccolto e che cosa c'è di vendibile in azienda questo era ovviamente solo per darvi una visione generale di quello che è il sistema di pianificazione di TEMD ha delle funzionalità specifiche interne che sono molto simili ai fogli di calcolo che stiamo utilizzando noi che permettono veramente di di non andare allo sbaraglio durante l'anno ma di pianificare pianificare in maniera precisa nei commenti mettete le domande che vi vengono in mente e io cercherò di rispondervi prossimamente grazie ciao